Iso Telarai è stato uno dei nostri eroi della lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Fu ucciso nel 1999 perché si ribellò ad alcuni caporali che pretendevano una parte della sua paga in cambio del collocamento al lavoro. Oggi abbiamo ricevuto i suoi fratelli che attraverso Libera sono stati invitati qui in Puglia e hanno fatto un giro per vedere i luoghi dove il fratello ha vissuto e in più in generale per avere un'idea di quella che è l'antimafia sociale della regione Puglia. E quindi noi siamo stati molto felici di accoglierli e di ribadire il nostro impegno a favore della legalità, del rispetto delle persone e contro ogni forma di sopraffazione e di violenza.